Siamo on the road, Vera TV, non possiamo fermarci qui in curva, siamo prima dell'uscita di Sant'Atto, zona comunque del nucleo industriale, accanto alla superstrada. Che cosa c'è? Guardate, una discarica. Le persone appena uscite fuori dall'autoservizio, aver fatto benzina, metano, quello che volete, si fermano un attimo e scaricano l'impossibile. Accendono anche i fuochi, sì, perché c'è anche la cenere, c'è di tutto. Simone sta facendo vedere l'impossibile, l'impossibile sintetizzato in rifiuti casalinghi, rifiuti industriali, bottiglie di plastica, stendini, zaini, gioielli finti di biciotteria, abbiamo dei piccoli collane, abbiamo un telefono, un telefono che chiama la civiltà, pronto, casa, tipo ET. Sì, abbiamo cose straordinarie di inciviltà umana, abbiamo anche un cono, un cono della stradale per i servizi stradali. Il senso, il senso di abbandono, il senso di inciviltà che ci pervade, le domande sono sempre le stesse. Perché? Perché dare questo segnale? C'è chi lotta come il patto dei sindaci per cercare di creare un ambiente migliore e c'è chi in pochi attimi distrugge quello che è il tentativo di rendere la nostra vita, a quelle delle generazioni presenti, non quelle future presenti, migliori. Qui lo Stato è quello di l'assenza dell'amministrazione, di un controllo, di qualcuno che ci possa dare la soddisfazione delle regole della civiltà.